Gli effetti negativi che abbiamo già visto in occasione di precedenti sanatorie finite molto male. Quando diciamo finite molto male significa finite con persone che hanno subito delle truffe, dei raggiri che sono stati costretti per poter aspirare, per poter raggiungere questo permesso di soggiorno, sono stati costretti a comprare dei contratti di lavoro, stanno già vendendo sul mercato contratti di lavoro soprattutto da persone che magari stanno vendendo a 5, 10, 15, 20 persone lo stesso contratto come colfo, come badante, con il risultato che poi tutte le domande saranno annullate. Non avere fretta a consultare gli uffici di informazione e di consulenza delle associazioni che hanno organizzato questa iniziativa. Al termine di questo incontro ovviamente scenderà la delegazione e riferirà quanto è stato richiesto alla Prefettura, ci sono diversi punti in discussione, purtroppo non si potrà chiedere una trasformazione, un cambio radicale come ci sarebbe bisogno di questa sanatoria, ma almeno si cercherà di eliminare alcuni rischi come ad esempio anche quello che purtroppo a Brescia si conosce bene, di un'attesa per le risposte che può anche andare avanti per un anno, due, due anni e mezzo, tre anni, come è successo in occasione dell'ultima sanatoria del 2012 che come sapete si è conclusa poi nel 2015 e si è conclusa con le proteste in Piazza Rovetta, con anche alcuni momenti di carica della Polizia, con una situazione sicuramente niente nel cercare di poter fare la domanda, quindi nel cercare il contratto di lavoro, in questa corsa contro il tetinaia di migranti, di immigrati che si stanno presentando tutti gli uffici, i sportelli di informazione e di consulenza, quindi siamo pronti per nuove mobilizzazioni, se ce ne sarà bisogno, già a partire dall'inizio di settembre quando insomma saranno concluse le operazioni di presentazione delle domande. Io non so appunto se magari ci vuol dire ancora qualcosa da qui, poi dopo ovviamente ci sarà il resoconto e tutte le valutazioni anche di come è andato l'incontro. Siamo arrivati a rispettarli, siamo arrivati a rispettarli, la distanza, con le macchie linee e questo qua, quello che viene di chiesto, siamo arrivati a rispettarli. Detto questo, con questa iniziativa l'avevamo avuta la prima volta per una sanatoria e tutti l'hanno dichiarato una sanatoria truppa, truppa in quanto non risponde alla realtà. Una sanatoria, erano chiamata Covid-19, non l'hanno chiamata sanatoria per regolarizzare le persone, non una sanatoria per regolarizzare il lavoro nero, una sanatoria per non contagiare altre persone. Allora, quando si parla del contagio, io voglio vedere e mettere anche la domanda, ma il contagio non è che tocca solo a quelli che lavorano nel settore domestico o a quelli che lavorano o nel settore dell'agricoltura, non è un contagio di quelli che lavorano nell'edilizia. Anche che ci siano la presentazione di queste 200.000 domande, calcolando anche il pagamento che sarà pagato di ogni persona. Quando hanno visto di questo numero, non riusciranno mai a raggiungerlo. Perché? Perché devono queste persone, in un momento di crisi, in un momento in cui le persone non possono spostarsi e devono andare a comprare i contratti, malgrado che hanno lavorato diversamente di altri settori che così lo ha sottogliato, e devono andare a cercare un altro contratto, e devono andare a pagare oltre in quelli che... ...nazionale a livello di Stato, immigrati, noi non si prega niente, abbiamo comprato o non ho comprato, una legge, abbiamo applicato le cose, abbiamo avuto un culto normale, abbiamo preso un dato del lavoro. Non parliamo più di truffa, è una cosa che chiede l'Estato, l'abbiamo presentato e dobbiamo avere ciò che desideriamo. E qui a Bresas è stato un fallimento totale, perché su 3.000 persone hanno dato solo 150 persone, è una truffa nazionale, una truffa dell'Estato italiano. Uno, non si farà più mai questa, siamo pronti a affrontare i scocicizzatori, e le dico davanti alla Prefettura, salendo di nuovo questo. L'altra cosa è che sull'Estato italiano è una truffa. Nel 2000 vi ricordo qua, nel 2000, avevo detto tre cose. In valo la solidarietà, in valo l'Estato italiano, in valo la legalità e la solidarietà. Dico perché, quando gli immigrati che sono arrivati qua, gli danno un permesso, una richiesta di asilo, gli danno la possibilità di andare a lavorare, e dopo gli dicono che hanno un permesso di lavoro, cosa vuol dire? Questa, questa è una truffa, un fuoco. E questo è un punto che dobbiamo mettere in piedi. Quando uno mi dà un documento, come si può lavorare, e non puoi lavorare, non sei riconosciuto, cosa vuol dire? L'Estato ammonte, salgo su questo contributo e venne versate, e all'allungo sarà una cosa rubata. Non diamo più di truffa. Qui non c'è truffa. Siamo dei cittadini, siamo qua e rispettiamo la legge italiana. Hanno detto che a queste condizioni avrà questo documento, non parliamo più di truffa. Abbiamo questo documento, l'abbiamo presento, dobbiamo averlo. E al di là di questa, è un contratto dove vedo due cose. L'Estato, che pensa adesso abbastanza riscontrabile, è il datore del lavoro, l'immigrato che è abbastanza maturo. E di me cosa c'è? I soldi. E quando un contratto c'è, uno non rispetta i fatti, cosa c'è da fare? Rispettare tutto. Non parliamo più di truffa. E' una cosa legale, ho il diritto di prendere una persona, perché i requisiti che mi chiedono sono, perché non devo farlo. Non parliamo più di truffa. Poi nel 2000 ricominterà qua e dobbiamo essere pronti a farlo. Tutti noi dobbiamo mettere in sottopera cosa facciamo per dare, perché nel 2012 c'è stata una truffa. Allora, il Ministro dell'Interno, destra. La provincia, destra. Capologo, destra. Provincia, destra. Hanno fatto tutto per impedire i ministri di avere questo documento. Questa volta non ci succederà. E siamo pronti, pronti per affrontare questo. Quando saliremo cose, diremo solo due cose. Prefetto, noi chiediamo una cosa. Chi ha diritto e ha presentato la domanda a tutti, che ci deve avere il suo permesso. Basta! Bravo! Allora, fino almeno qualche chiarimento, avanzare qualche richiesta rispetto ai punti peggiori, più penalizzanti di questa sanatoria varata dal governo. vedremo se qualche risposta concreta dalla Prefettura e poi dal governo di Roma avvicineremo ad avere. Durante l'emergenza si sono trovate senza alcuna tutela, con la paura di contagiarsi o contagiare le persone che assistevano. Per questo molti di loro sono state licenziate, hanno perso il lavoro e in alcuni casi anche un'abitazione dove stare durante il lockdown, mettendo a rischio anche il loro permesso di soggiorno. Ci sono volute settimane prima che il governo italiano prendesse in considerazione la loro situazione e così anche per i braccianti e le braccianti dei campi, le cui vite hanno iniziato a importarci perché le loro braccia potevano continuare a produrre profitto mentre noi rimanevamo a casa. Perché invece le vite di donne e uomini migranti non avevano valore quando affogavano in mare? Perché non importava quando vivevano nelle baracche, per strada o nei centri di accoglienza senza alcuna tutela per la loro salute? A questo paese è servita una pandemia per accorgersi della loro esistenza. Non sono semplicemente riders che usavano il cibo a domicilio. Non sono solo le addette e addetti alle pulizie che pulivano le strade e sanificavano gli ospedali e i supermercati. Lavoratori e lavoratrici della logistica che ci consegnavano i pacchi a casa. Braccianti che raccoglievano la frutta e la verdura per riempire i supermercati. Tutti questi lavori sono stati svolti semplicemente da persone e in quanto tali hanno diritto di vivere ed esistere come tutte e tutti. Questa sanitaria per noi è vergognosa. Il permesso di soggiorno deve essere slegato dal lavoro, soprattutto da condizioni schiaviste, senza tutele, non pagato, sottoricato e soggetto ad abusi sessuali. Non possiamo più accettare una società che si basi sullo sfruttamento delle vite più vulnerabili. Ora, più che mai, dobbiamo lottare insieme contro ogni forma di razzismo, di sessismo e di oppressione. Per una società che non ci uccida per il colore della pelle, che non ci stupri o ci discrimini per il sesso, ma che ci permette di esistere e di vivere liberi e liberi, senza alcuna forma di violenza. Colliamo l'occasione per invitare tutte e tutti a partecipare domani alla giornata di mobilitazione nazionale di non una di meno alle 18 in Piazza Vittoria per prendere parola dopo gli ultimi mesi di isolamento e costruire insieme una società libera dall'ingiustizia. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Non, 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 non. Non, 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 non.